Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per fare i pronostici di Serie B Giornata numero 36, giornata importantissima Manca pochissimo alla fine della regular season Mancano 3 partite, questo è il turno infrasettimanale E le prossime 2 che si giocheranno nei weekend E per il resto ragazzi manca veramente pochissimo E poi saranno playoff o playout Ancora tante cose da decidere Chi va in Serie A direttamente fra Venezia e ragazzi Como La lotta retrocessione ci potrà ancora dire tantissimo in queste ultime 3 partite E anche in ottica 7-8 posto abbiamo una bella lotta Fabrescia, Sampdoria, Pisa e ragazzi anche su Tirol e Cittadella Mi raccomando però a primi partiti col video Vi devo chiedere un pollicione su qua sotto 30, 40, 50, 60 mi piace per supportare i miei contenuti Un'iscrizione al canale totalmente gratuito ragazzi Mi raccomando iscrivetevi, questo è un canale che parla solo unicamente di Serie B E se volete vedere tutti i pronostici riguardanti le 10 partite Vi invito ad andare nel link qua sotto in descrizione Perché è un mio nuovo blog Lì parlerò ogni tanto di qualche squadra di Serie B Usciranno 2-3 articoli a settimana su diverse squadre di Serie B E per l'appunto anche i pronostici per la 36esima giornata Non perdiamoci in chiacchiere, incominciamo subito Incominciamo proprio col dirvi quali sono i partiti che ho scelto Cremonese-Pisa, Catanzaro-Venezia Ci facciamo ragazzi Reggiana-Modena Suttilo-Alternana è importante in ottica salvezza E chiudiamo con Ascoli-Cosenza Iniziamo proprio da Ascoli-Cosenza Una gara che mette di fronte un Ascoli che viene da una vittoria importante Quella contro la Ternana ragazzi Per 1-0 Quindicesimo a quota 37 punti Per il Cosenza è un match che potrebbe dire in caso di vittoria Salvezza perché andrebbe a quota 45 punti Perché potenzialmente allungherebbe sull'Ascoli ragazzi Di 8 punti Mancano poi due partite Quindi questo è il match point per il Cosenza Che viene da due belle vittorie Per contro la Reggiana E contro il Bari dove ha fatto 8 gol Ne ha subito solo uno Il mio pronostico è un X2 O pareggio o vittoria del Cosenza Proseguiamo con Suttirol-Ternana Gara molto interessante Perché Suttirol con 43 punti Non ha ancora la salvezza matematica Se vince ce l'ha proprio in questo turno Contro la squadra di Roberto Breda Che è chiamata per fare punti ragazzi 37 punti 16esimo posto Finisce oggi il campionato play-out Contro lo Spezia Anche lei ha 37 punti Però 17esimo E per l'appunto l'ultima sconfitta È stata molto pesante Quanto a quella contro l'Ascoli Per una 0 Arrivata ragazzi Col gol di Botteguin Al minuto numero 90 In un match comunque molto equilibrato Dove la Terranea Ricordiamolo Si è mangiato un gol clamorosamente Con Casasola Tutto solo Contro il portiere Il mio pronostico è un pareggio spaccato Non vedo una delle due squadre Favorite Proseguiamo Andiamo con partite Con partite anche di calibro Ragazzi Più Più pesante Una su tutte Sicuramente Cremonese Pisa Che va in scena domani Ore 12 e 30 Cremonese Che deve difendere Ragazzi Il quarto posto Che momentaneamente Ha un margine di vantaggio Di 3 punti Sul Catanzaro Quinto A 57 punti La Cremo Non vince da 3 partite Un punto solo Nelle ultime 3 4 punti Nelle ultime 5 E' un cammino Che non rispecchia Quanto di buono fatto Nelle precedenti partite Devi difendere il quarto posto Perché ti porterebbe La semifinale Playoff Affronta un Pisa In salute Che viene comunque Da Ragazzi Da 5 punti Nelle ultime 3 partite Il mio pronostico E un 1 Della Cremonese Credono Alla vittoria Della squadra Di Giovanni Stroppa Proseguiamo Con Reggiana Modena Un bel Una bella partita Quella di domani Ore 18 Una partita Che mette di fronte 12esima 13esima forza Il Modena 12esima Con 43 punti La Reggiana 13esima Con 43 punti Entrambe Arrivano ad una vittoria Il Modena Dopo tanto tempo Vince una gara La vinta contro Il Suttirol Per 1 a 0 Nella seconda Partita di Bisoli La Reggiana Ha vinto tutti Stupendo A Palermo Per 2 a 1 In rimonta Pronosticare questa gara È molto complicato Gioca in casa La Reggiana Credo che ci sia Una ampia possibilità Che possa finire In pareggio Chiudiamo Con Catanzaro Venezia Per il Venezia Un altro bel test Per capire Se può veramente Contendere il secondo posto Al Como Dopo che Nell'ultima giornata Comunque Ha preso punti La squadra di Roberts Adesso la distanza È di solo un punto Però di fronte Il Venezia Giocherà Contro un Catanzaro Che sicuramente Vuole tornare la vittoria Visto che non vince Due partite E vuole provare L'assalto Al quarto posto È un Venezia Che sta bene È un Venezia Che è in saluto È un Venezia Che ci crede È un Venezia Ragazzi Che a cui manca Veramente poco Per potersi prendere Questo secondo posto Un punto di differenza Non è niente Nelle ultime tre partite Certo è Ricordiamolo sempre Che tu devi vincerle tutte E sperare Che il Como Anche nelle ultime tre Possa fare un passo falso Se no Per l'appunto La classifica Rimane così Il mio pronostico È comunque Un X Un pareggio Con entrambe Le squadre Che vanno in gol Vi garantisco Che non vedo Il Venezia favorito Contro il Catanzaro Di Vincenzo Vivarini Fatemi sapere la vostra Qui sotto con un commento Pollice nel suo video Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo A un prossimo contenuto Bella ragazzi Grazie